Sperma, sperma, un lettore mi scrive, un lettore mi scrive, l'editore Ugo Falace, l'editore della grande casa editrice Centro Leonardo di Genova, mi ha scritto l'editore Ugo Falace informandomi che un lettore ha utilizzato una funzione inserita in questo ebook e che tramite questo ebook un lettore può fare una domanda allo scrittore, pensate un po' come siamo andati avanti sul piano tecniconformatico, per cui un lettore mi ha fatto una singolare domanda, me l'ha fatta tramite l'ebook tramite questi ebook che ora nella sua bella traduzione il bingo gris sta in tutto il mondo ma c'è la prima versione in bingo italiana, capito? allora, poi io la domanda della mito del riassunto di questo video, la domanda che lo sto molto è questa è una domanda che ti colpisce al cuore, siccome io, ma non solo io, io sostengo che tutto nasce con la scoperta della funzione dello sperma la prima è la scoperta della funzione dello sperma che sta alla base della nascita della proprietà privata il lettore, ma come poteva la scoperta della funzione dello sperma integrarsi diversamente dentro la società materiale in maniera che non nascesse questo patriacato devastante che porta ovunque guerre e distruzioni e caro amico, caro amico lettore, io ho riflettuto a lungo sulla questione ma non riesco a trovare un'alternativa a ciò che è accaduto perché una volta scoperta la funzione dello sperma e gli uomini si sono sentiti investiti di una funzione divina divina, hanno detto anche noi, o forse più noi che le donne partecipiamo alla perpetuazione della specie e non sono stati capaci gli uomini di tenere in equilibrio l'assetto matriarcato c'è stato un ribaltamento, attenzione però eh il passaggio dal matriarcato al patriarcato non arriva in maniera improvvisa c'è un lento passaggio dal matriarcato che può durare anche moltissimi secoli e anche forse qualche millennio e alla fine c'è il ribaltamento, si passa dal diritto materno al diritto paterno e il diritto paterno prevede la sottomissione della donna e come vediamo anche oggi, anche oggi valgono sempre per i cristiani, per gli islamici e per gli ebrei i dici comandamenti dove c'è scritto non desiderare la roba d'altri e non desiderare la donna d'altri ma anche oggi è così, va bene, perché neanche oggi si fa la clitoridectomia, l'infibulazione, ci sono i femminici va bene caro amico lettore, i maschi non avevano tante altre alternative se non quella di creare il patriarcato e sottomettere la donna ma non è stato possibile fare una certa diversa l'esaltazione, l'esaltazione che ha colpito i maschi per la consapevolezza di partecipare a questa ecluzione della specie, questa potenza, diciamo così, inaspettata, creativa e li ha portati alla tragica scelta di rovesciare il patriarcal e di sostituirlo col patriarcal ok caro amico, grazie a te il tuo messaggio è riportato integralmente nel riassunto di questo video e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massone